Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di RamaDG E il tema di oggi è Cursed Maledetto Però ragazzi non so proprio cosa disegnare Ma ancora sta storia? E non ti ha ridotto il cazzo con questo Inktober e questi disegni inutili? Sì ma ormai devo farlo Non so che fare Ma sì? Ma qual è il tema? Maledetto? Bam! Maledetto Ma non puoi risolverla così Ma sì? E allora faccio anche il giorno 4 Boom! Godersi l'autunno Ma fa schifo Ah sì? Bam! Corretto Ma così non vale? Potresti fare anche il giorno 5 Yeah! Spiegone del video Yeah! Spiegone del video Niente! Questo è il mio vecchio personaggio Che ha a che fare con i corvi E quindi ho detto Aspetti di miagolare! Scusate E quindi ho detto Eh... Bleh cioè Faccio questo o sì Perché oggi è il giorno dei corvi Ma... Ma che cazzo vuoi? Hai già mangiato? Ancora? Ancora? Dai? Miagola ancora? Dai? Dai? Bravo 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 Quello che pensavo Sì E stai zitto eh 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 Grazie per la visione!